Due parole per contribuire a collocare la straordinaria vicenda di Cobane all'interno della fase in cui stiamo vivendo, una fase della globalizzazione capitalistica che ci appare molto diversa rispetto a come l'avevamo conosciuta e contestata tra gli anni 90 e i primi anni 2000. A me pare oggi che un elemento fondamentale che emerge sempre di più è l'indebolimento della capacità egemonica degli Stati Uniti, e quindi nonostante, come abbiamo sentito, gli Stati Uniti continuino a avere il controllo di territori in tutto il mondo anche attraverso le moltissime basi militari di cui dispongono. Credo che sia importante tenere presente questo indebolimento della capacità egemonica statunitense anche per comprendere quello che sta accadendo nel Grande Medio Oriente, che è tornato ad essere uno spazio fondamentale al cui interno si giocano equilibri globali. Michele Giorgio molto correttamente ricostruiva il progetto di ricostruzione del Medio Oriente che si è organizzato attorno a questo asse che sarebbe sembrato assolutamente improbabile pochi anni fa tra Turchia e Arabia Saudita. Bene, questo è un progetto che è sicuramente diverso rispetto a quelli che sono gli interessi statunitensi in quell'area, anche se potrebbe in realtà essere reso sul medio periodo compatibile con questi interessi. Ma se guardiamo al gran numero di attori e di progetti egemonici che si giocano oggi dentro il Grande Medio Oriente, ci rendiamo conto di come la guerra sia probabilmente destinata a caratterizzare gli scenari di quell'area del mondo ancora molto a lungo, è evidentemente un dato che dobbiamo registrare perché qualifica poi rispetto all'area specifica di cui stiamo parlando il discorso sulla guerra permanente. Una guerra che a differenza da come era stata immaginata dagli strateghi neoconservatori nell'età di Bush il giovane non ha caratteri costituenti, ha piuttosto caratteri destituenti, nel senso che mette continuamente in discussione assetti politici, sociali, economici consolidati, mette continuamente in discussione confini consolidati senza essere in realtà in grado di proporre degli scenari di ricostruzione fossero pure a noi radicalmente avversi. Penso che questo sia coerente con alcune manifestazioni della guerra che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi decenni, ad esempio in molte parti dell'Africa, dove la guerra si pone come forma della governamentalità di interi territori e di intere popolazioni. Una guerra privata di una razionalità strategica è trasformata in dispositivo di governamentalità, in un dispositivo di governamentalità in cui sfumano i confini tra gli attori statali, gli attori privati. Pensate a quello che accade in molte parti del Messico ma anche in altre regioni latinoamericane, dove di nuovo siamo di fronte a questo porsi della guerra come dispositivo di governo di territori e di popolazioni. In fondo oggi in molte parti del grande Medio Oriente la guerra è questo. Ed è da questo punto di vista che credo vada ancora più apprezzata, esaltata la straordinaria resistenza di Kobane, come la straordinaria esperienza costituente del Rojava, dall'interno di una situazione segnata profondamente, drammaticamente dalla guerra, da una guerra che non è cominciata soltanto con l'offensiva dello Stato Islamico, ma che ha radici antiche. Dentro questa formidabile resistenza che ancora questa sera ci è stata raccontata con grande patos, con grande partecipazione, si è aperto un orizzonte costituente, si è costituito un soggetto collettivo capace di autogoverno nel segno della libertà e dell'uguaglianza. è un'esperienza davvero estremamente preziosa, è un'esperienza attorno a cui siamo chiamati a ricostruire, rinventare il linguaggio, l'immaginario dell'internazionalismo, di un internazionalismo che non può più vivere di miti, ma deve essere invece interamente dislocato sul terreno della capacità di tradurre esperienze come quelle del Rojava nei nostri territori. In territori in cui pure la guerra si infiltra, si infiltra nelle forme della governamentalità. Pensate agli Stati Uniti, pensate a quello che c'è dietro allo stilicidio di afroamericani assassinati dalla polizia. Quello che ha messo in evidenza il movimento Black Lives Matter, le vite nere contano in questi mesi negli Stati Uniti è precisamente il fatto che le forze di polizia pattugliano territori metropolitani con le stesse tecniche e con le stesse armi che sono state sperimentate a Fallujah, in Iraq, in Afghanistan. Dunque la guerra, anche in questo caso, e lo abbiamo visto ad esempio nelle banlie francesi, lo vediamo in molti nostri territori come forma di governamentalità. Certo una guerra diversa rispetto a quella di cui ci ha parlato il compagno kurdo, ma una guerra che si pone in continuità con quella. D'altro canto sono molti anni che denunciamo come ai confini dell'Europa e in particolare sul confine meridionale dell'Europa sia in corso una vera e propria guerra contro i migranti. E' inutile ricordare i numeri agghiaccianti delle vittime di questa guerra, di una guerra che evidentemente è combattuta da una parte sola. Credo che sia più importante sottolineare alcuni elementi specifici, peculiari della situazione che stiamo vivendo oggi sul confine meridionale dell'Europa e all'interno dei nostri territori, alla stazione Tiburtina di Roma, alla stazione centrale di Milano, a 20 miglia. Da una parte è del tutto evidente che la composizione, il ritmo del movimento migratorio che investe il confine meridionale dell'Europa sono strettamente collegati alle dinamiche belliche che sono così violentemente presenti sulla sponda sud del Mediterraneo. Ma dall'altra parte è anche evidente come questo movimento migratorio si trovi a investire l'Europa in un momento di crisi radicale del progetto europeo di integrazione. E penso che un compito fondamentale per tutti noi, per tutte noi, in questi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sia proprio quello di collegare quello che accade ad esempio a 20 miglia, la chiusura vergognosa della frontiera francese di fronte a poche decine di richiedenti asilo con la crisi che si manifesta attorno allo scontro tra le istituzioni europee, il Fondo Monetario Internazionale e la Grecia. Da una parte è in discussione il sistema di Schengen, dall'altra parte è in discussione l'euro. I due elementi fondamentali, anche dal punto di vista simbolico, e certo non solo, della costruzione europea. Di una costruzione europea che oggi si trova di fronte a una crisi esistenziale, nel senso che in discussione è l'esistenza stessa del progetto europeo. I migranti, i richiedenti asilo, i profughi che continuano con straordinaria ostinazione a attraversare il Mediterraneo, a raggiungere le nostre coste, a penetrare l'Europa, ci sfidano in fondo a reinventare lo spazio europeo come spazio di libertà e di uguaglianza, anche a partire da una diversa articolazione del rapporto tra lo spazio europeo e gli spazi che stanno al di fuori dell'Europa. In primo luogo la sponda sud del Mediterraneo, ma poi anche il grande Medio Oriente e l'est dell'Europa. Se non saremo in grado di collegare questa sfida, questa sfida incarnata nei corpi, nei movimenti di donne e di uomini in movimento, con quell'altra sfida, quella di porre fine una volta per tutte all'austerity, alla gestione della crisi che si è organizzata in questi anni, sarà davvero difficile riuscire ancora a pronunciare la parola Europa per esempio di fronte ai compagni kurdi senza vergognarsi. Grazie.